Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È un video un po' diverso dal solito, un po' particolare perché sì, vi sto andando a presentare quello che è un mio nuovo progetto, ovvero un progetto dedicato alle auto e sempre è stata una mia grande passione quella di trattare l'argomento delle auto. Sono un appassionato di auto da quando ero piccolo così e quindi non vedo l'ora di raccontarvi un po' questo mio nuovo progetto e come ho intenzione di portarlo avanti. Il progetto consiste nell'andare ad aprire un nuovo canale YouTube dove troverete, scusate per l'eco, troverete già un video realizzato e pubblicato lì. Il canale si chiamerà Pringy Motors e tratteremo appunto di auto, parleremo di tutta una serie di test, prove sul campo e insomma di tante modifiche che voglio fare alla mia bimba. Quindi non ve lo perdete, andate sul canale subito a recuperarlo e io intanto vi lascio a un piccolo spot che ho realizzato per il nuovo canale. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!